Un duro colpo è stato inferto al mercato della droga nella provincia di Pesero e Urbino. Sgominata una banda di spacciatori di nazionalità marocchina di età compresa tra i 21 e i 28 anni che avevano nel quartiere multinetnico di Urbino 2 la loro base e di loro giro di fiancheggiatori e due corrieri italiani residenti a Fossombrone ed un macedone di Gallo di Petriano. L'operazione ha portato anche all'individuazione ed il sequestro di un notevole quantitativo di droga, quasi 2 chili. Una vasta operazione interforse tra squadra mobile di Pesero, commissariato di Urbino, unità cinofine antidroga della Guardia di Finanza di Pesero e i Vigili del Fuoco che ha permesso l'arresto di 10 persone ed il sequestro di un notevole quantitativo di droga, oltre mezzo chilo di cocaina purissima, del valore di oltre 50.000 euro ed un chilo e 200 grammi di hashish. L'operazione ha avuto inizio nel settembre del 2018 quando furono arrestati in flagranza di reato per rapina ai danni di due donne connazionali, tre cittadini marocchini che avevano sottratto con la forza le borse alle due donne. Da lì l'indagine si è ramificata in altri due tronconi che hanno portato all'individuazione dei due corrieri italiani residenti a Fossombrone, beccati al casello autostradale di Fano con la droga destinata ai festini nei quartieri bene della città nel periodo natalizio con un sequestro di 500 grammi di cocaina e di 520 grammi di hashish. In seguito altre evidenze investigative hanno portato i poliziotti sempre nel quartiere baso di Urbino 2 ad individuare altri componenti del gruppo di spacciatori, in particolare un altro marocchino di 36 anni. E veniamo così ai giorni nostri con la conclusione dell'operazione avvenuta sabato scorso tra le colline dell'Urbinate a ridosso proprio del quartiere incriminato dove nei pressi dell'abitazione del 36enne, grazie al fiuto infallibile del cane antidroga Ebro e al supporto dei vigili del fuoco sono stati scovati, infrattati nel terreno e tra i rovi 760 grammi di hashish e 36 di cocaina, già suddivisi in dosi pronte all'uso ed un'ingente somma di denaro, 540 euro, frutto certamente dell'attività di spaccio. Le indagini hanno evidenziato, come sottolineato dalla polizia, la difficoltà di muoversi in un contesto urbano come quello di Urbino 2, già oggetto di diversi raid delle forze dell'ordine, interamente occupato da cittadini extracomunitari che al minimo segnale di presenza delle forze dell'ordine danno un immediato allarme stile scampia e che dimostra quanto si sia elevato il livello di sofisticazione delle tecniche di spaccio e di occultamento dello stupefacente, che ora non viene più tenuto nelle abitazioni ma sotterrato e nascosto ai lati della strada, sotto il fogliame e diversi centimetri di terreno, già in dosi pronte per essere cedute ai clienti.